stasera anzi stanotte anzi stamattina voglio condividere con voi un'opinione impopolare i clipper mi fanno schifo mi fanno schifo perché sono poco ergonomici poco maneggevoli alcuni hanno forme hanno rappresentazioni simpatiche ma guardate questa hanno un'espressione che uso spesso ossia lol ma mi sono antipatici questa patina di acciaio pezzotto non mi piace questa patina di plastica non mi piace preferisco i bic o gli zippo e poi i reputo di scarsa qualità mi sembrano delle cinesate veramente gradevoli e poi non sono di classe